Questa mattina alle 12 la Procura di Pesaro ha incaricato il consulente tecnico Gianfranco del Prete di recuperare e analizzare il contenuto dei dispositivi dei cinque indagati per l'inchiesta sugli affidamenti delle due associazioni Opera Maestra e Stella Polare. Presenti nella mattinata al Tribunale di Pesaro anche i due indagati Massimiliano Santini, ex coordinatore eventi del Comune di Pesaro e Stefano Esposto, l'autore delle due associazioni accompagnati dai loro legali rappresentanti, mentre il dirigente comunale Eros Giraldi e il funzionario Loris Pascucci sono stati rappresentati dallo stesso avvocato. Maurizio Terenzi e Alberto Bordoni invece rappresentano il riferimento per l'ex capo di gabinetto Franco Arceci. Proprio l'avvocato Bordoni ha poi illustrato la situazione e quanto avvenuto nella mattinata. Credo di interpretare le parole e il pensiero del dottor Arceci nel dirvi che sicuramente c'è amarezza per un'ipotesi accusatoria ma al tempo stesso rispetto per il lavoro della magistratura e fiducia in questo lavoro. Ecco poi detto questo credo che le attestazioni di stima sia pubbliche che private che in questi giorni ha ricevuto il dottor Arceci dicano tanto del lavoro che ha svolto in questi anni e credo che insomma valgano come più di una sentenza sin d'ora. Oggi c'è stato solo il conferimento di un incarico tecnico per verificare i supporti informatici che sono stati sequestrati, dovrà essere fatta una copia forense di questi supporti finché venga poi analizzata con tutte le garanzie di legge. E' sicuramente amareggiato ma fiducioso di poter assolutamente dimostrare le straneità a queste condotte che insomma adesso poi aspettiamo di conoscere esattamente le contestazioni che gli verranno mosse e soprattutto anche le prove che la procura porterà per poter ipotizzare questo tipo di condotta.